guarda, hai visto? guarda cosa c'è qui, ma qua ci vengono ancora a scoprire, guarda te l'ho detto, qua proprio, buon tantorsi un gatto, come un gatto? io ho visto un gatto che mi ha arrivato, sei sicuro che era un gatto? no non è un fantasma è vero? vediamo? ma che cazzo c'è? io ce l'ho andata cosa c'è Giovi? ma niente, non si sa mai ma scusa, perché il negro deve essere da solo per oggi? per venire a quest'ora non so quanto sia stata una buona idea ma niente ragazzi, al buio è troppo inquietante davvero wow, un giradischi ragazzi siamo nei sotterranei, è davvero terrificante non si vede niente, siamo solamente guidati dalle luci ti giuro che sono terribilmente terrorizzati ma addirittura ma minta, ma gli illumina anche solo di lì, cioè guarda poi sento sempre il verso di lì figa dei passi, ti giuro invece è l'acqua non sono le gocce ma ti ho smesso di registrare eh? ho smesso di registrare eh vabbè fa niente, usa il telefono però piove, però stiamo andando a vedere una stanza no Gerry una stanza ragazzi questo è il buio per come si vede ed è una cosa terribile si sembra il trailer di un film horror ok ah ecco la porta sinistra indietro ah no no, l'ho visto però che non lo vedo che adesso cosa c'è? la sedia la sedia ero lì eh? guardavo dentro mi sono sentito qua ci sono delle scarpe qualcosa su internet e mi dicevo davvero? si davvero guarda eh? non so, è il divano ma davvero stiamo entrando minchia quanti questo tipo di divane aspetta, a me ma guarda se ci sono delle porte oh oh madonna Rai hai fatto il bordello che sono i neon per terra c'è un'uscita vediamo lì c'è un'uscita però lì c'è un'uscita però illuminate per terra vi prego vieni che casino madonna tutto questo rumore è dovuto dai neon che stanno scoppiando ho paura di camminarci sopra ahia madonna stiamo camminando stupuccini neon di vetro e divani abbandonati troppo inquietante madonna quanto piove guarda cos'è quella roba? madonna raga cos'è? non so non è piscio sicuro mi sembra tipo gelatinoso ectoplasma questo mi sembra gelatinoso hai visto? è una cosa gialla che cazzo è? ectoplasma che sembra tipo fresco ma è un gel non lo so davvero mi sembra un viaggio all'inferno questa esplorazione questo sai che è più inquietante dell'ospedale? si ma perchè di notte? perchè andavamo di notte nell'ospedale ci cagavamo triple addosso non cazzo da fare 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 comunque non è il carico di adrenalina che è devastante come è? come è? Va? jc aj in fondo LED 16 cazzo Questo qua dove siamo adesso era il palco, dove i cantanti che venivano invitati qui venivano a fare le loro serate Incredibile ragazzi, davvero un posto esageratamente figo E Jay scusami, sei sul palco? Sollissimo, cioè guarda cos'è rimasto, niente, cioè è tutto distrutto Ma il pubblico adesso mi prende Esatto E' vero, c'è un tronco, così Come è che vuoi portare i vini in trinitia? Cos'è? Mi cazzo non fatti incastrarle in questa maniera Ma dentro c'è qualcosa, guarda Spesso che c'è da mangiare Buongiorno, è interessante Cosa c'è di là? La cosa qua era all'estivo Entriamo da lì, riusciamo Però il punto di vista è di entrare Perché sta aumentando la pioggia, va No, no, no Io mi sarei cagatato Questa è proprio lo sgabuzzino generale Speriamo No, secondo me no, Gerry La madonna Sta, riempriamo, andiamo Bene, ragazzi, siamo tornati con la GoPro E l'esplorazione è finita Oggi è stata davvero una giornata fantastica Dobbiamo dirlo Le esplorazioni al prezzo di una Ci stanno sempre Questa ultima soprattutto Mi ha dato un sacco di emozioni Non so voi Ma io sono uscito soddisfatto E terrorizzato allo stesso tempo Che è l'obiettivo Delle nostre esplorazioni A parte adesso che mi ha messato la merda Per arrivare al parcheggio Per il resto è stata un'ottima giornata Proficua e grandiosa Ragazzi Mi raccomando Vedete tutto il video E noi ci vediamo alla prossima esplorazione Non ce la faccio a fare una chiusura decente Bella Salutate ragazzi Bella Ciao